A piedi gratis! Da oggi, grazie a Maroni, eccovi la nuova tessera abbonamento per viaggiare a piedi gratis in tutta la Lombardia. Cittadini lombardi, ma in fondo a cosa serve il trasporto pubblico locale? A cosa serve una rete efficiente, moderna, misura di cittadino? Quando avete i piedi! Anch'io viaggio a piedi gratis! Ehi, vedi come sto viaggiando? A piedi gratis! Puoi farlo anche tu e non dimenticarti di ringraziare Maroni. Questo è quello che pensano in Regione Lombardia, dove investono solo il 5% per ferrovie, tram, bus e altri mezzi di trasporto. Tutto il resto delle risorse regionali va su autostrade e tangenziali. E sapete cos'è peggio? Queste cosiddette grandi opere rimarranno sostanzialmente incompiute e i soldi pubblici dei cittadini lombardi verranno letteralmente disintegrati all'interno di veri e propri buchi neri. Ed ecco come la Giunta Maroni si immagina i trasporti e la mobilità nella nostra Lombardia. E i cittadini dovranno arrangiarsi, pedalare o meglio andare a piedi e magari con una mascherina sulla faccia per non intossicarsi nelle nostre inquinatissime città lombarde. Vieni anche tu a piedi gratis. Tanto con la Giunta Maroni non c'è alternativa.